Bosco alle prese, siamo nel polmone verde di Tezze sul Brenta, dove guardate un po' cosa hanno lasciato i soliti incivili. Immondizi ovunque, tra bidoni di plastica, sacchetti lacerati, con rifiuti sparsi tra le foglie e gli alberi, in un'area a pochi metri di distanza. Per assurdo, sottolinea il nostro telespettatore che ci ha inviato le foto che vi stiamo mostrando, dall'ecocentro comunale. Questo scrive chi ci ha contattati per segnalare la mancanza di senso civico di alcuni cittadini. Grazie a tutti.